poi adesso secondo me possiamo iniziare il secondo blocco della trasmissione che è sul Mighty Morphin Power Ranger a quale andiamo? Allora io sulla wikipedia non c'è altro che ci interessa la possiamo chiudere chiudo tutte e due? Questo la puoi chiudere, wikipedia ci interessa qualcos'altro non mi sembra che ci sia qualche cosa interessante nello specifico se vuoi possiamo fare il video e possiamo tramite il video o quello che scegli tu possiamo iniziare a introdurre una cosa importante di questa trasmissione cioè una riflessione su come è fatta la squadra di Power Ranger e che cose rappresentano da un lato A i colori da un lato B gli animali esatto io questa è la cosa che volevo fare questa è quella che ho preso io questa è la sigla che mi hai linkato tu io volevo vedere un attimo la sigla italiana ok qua mi lascio guidare dal granpuno ma è più che altro per soffermarci questa è la prima sigla italiana per l'appunto che in realtà è anche della prima serie di come è arrivata quella americana sostanzialmente che è del 93 mi sa 93 dal 90 al 95 esatto e volevo soffermarmi ora tra poco farò la mia disamina sui colori però non so se conviene Coco Power Rangers però vediamoci questa intanto basso un po' così non allora scusate cercherò di interrompere per evitare anche che ci siano casini tra l'audio del video e l'audio nostro perché è una cosa che può accadere spesso una parola che ritorna continuamente in tutte le sigle italiane è la parola guai che è una parola che mi interessa un botto perché lo dicono tutti lo dice Lupin lo dice questo lo dice l'incantesimo è un modo per dire il male ai bambini esatto come cavolo si chiama esventura tutte cioè tutte il problema il problema è i guai però i guai hanno anche questa cosa del tipo siamo in un guaio cioè è questo problema che però non è connotato necessariamente dal male cioè il guaio è un problema che va risolto però aglia sei nei guai c'è capito c'è questa cosa del tipo te la devi cavare da uno spirito avventuroso eppure problematico i guai è uno che si è capito si caccia sempre nei guai c'è questa cosa quasi avventurosa io già a livello di immagine potrei commentare andiamo avanti perché adesso sto vedendo le parole in realtà cioè di come un prodotto giapponese si è arrivato negli Stati Uniti e si è arrivato poi in Italia e in Italia abbiamo dovuto presentarlo agli italiani in una lingua italiana quindi mi stavo concentrando ancora più infantilizzato ancora di più di quell'americano certo ma perché è interessante questa divisione secondo me di come gli americani erano un diverso tipo di bambini un diverso tipo di teenager nel senso è diverso proprio il tipo di come è fatta la scuola poi loro lo capiranno andando avanti negli anni però rispetto alla cosa di il nostro pubblico rispetto alla loro ritorno di va bene se vi ricordate l'intervento di mio cugino tempo fa loro sono in una... gli americani sono un attimino negli anni 90 iniziano a fiudare gli anni 2000 cioè questa atmosfera teen che da noi arriva negli 2000 sì sì vado avanti? prego certo rosso e giallo più rosa nero e blu scusate perché qui la questione dei colori come viene rimarcata nella sigla voi sentite bene non è che è troppo forte scrivetecelo in casa scrivete se sentite come sentite se è molto alto il volume vado? se avete visto questa transizione è meravigliosa eccolo scusate rimetto questa cosa i colori Power Rangers nel senso che già anche nella sigla viene brandizzato i colori Power Rangers nel senso è importante questa cosa di colori perché lo dicono gli enumerano e poi dicono i colori Power Rangers quindi sono proprio i colori Power Rangers tra l'altro io oggi sono il leader della puntata perché sono vestito di rosa difatti io mi sono vestito tutto di verde ho anche i pantaloni verdi ho le mutande verdi ho le unghie verdi sotto le unghie vere che schifo ho il cervello verde il fegato verde cazzo sei una zombie ho fatto tutto mi sono divinto uno zombie oggi ho tutto verde perché a parte il mio colore preferito ma poi ne parlerò anche di questo come sapete i fan del Gran Puno che mi mandano alla posta i cucchiaini verdi per mangiare il gelato c'è l'argomento dei colori facciamo la domanda più banale che fanno tutti gli influencer qual è il vostro colore preferito visto che ci sono troppo pesanti la facciamo gli stupidi qual è il vostro colore preferito anche perché guarda che tutti per esempio nella chat appaiono con dei colori io ho tutta una teoria dei colori ma al di là di quello anche sulla domanda qual è il vostro colore preferito c'è proprio una teoria immensa su questa cosa comunque andiamo avanti prego che belli i Zord tutti uniti fanno Megazord Invincibile Robo cioè questa tutti uniti fanno Megazord Invincibile Robo tra poco rimetterò la sigla senza il testo per far vedere proprio le immagini perché mi interessa veramente a parte qui vedete questo è il logo di Mighty Morphin questo logo regà tra l'altro io ho messo il fulmine oggi nella cosa per ricordare questo logo questo logo cioè io mi fa strano perché a voi sicuramente non dirà nulla a voi giovinotti ma era negli anni 90 questa cosa era tipo la bandiera dell'Italia cioè le vedevi dappertutto cioè andavi al cesso dell'autogrill e c'era questo ho scritto il numero delle prostitute sotto beh guarda che intanto mi interessava anche questa cosa Gerrard ha fatto un commento molto profondo ha scritto 42 cosa risponderesti? che è la risposta alla domanda la risposta alla domanda dell'universo quella della domanda del di come si chiama degli autostoppisti ah ok non l'avevo costa grazie di questa del senso della vita penso sia qual è il sì che è la domanda di cui non si sa non si sa la risposta ma non si sa la domanda sì 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 42 qual è il vostro colore preferito penso che avete detto 42 che nel mio caso comunque risponde a arancione scusate ogni tanto voglio rovinare la trasmissione con le cose inutili indistruttibili scusate rimetto questa cosa qua sono imbattibili indistruttibili power ranger tra l'altro questa è un'altra cosa che ritorna come l'incorreggibile questa logica al negativo nel senso raramente ci sono delle definizioni con queste grandi paroloni del tipo coraggioso generoso queste cose qua muscoloso tipo i street shark però diciamo molto spesso si va a questa definizione in cui loro non gli puoi fare niente nel senso c'è sempre un in qualche cosa in qualche cosa e qui volevo andare anche la verità vuol dire libertà vai in power ranger ormai di morfine c'erano i cattivi sfigati eccoli quelli che fanno anche ma poco fa si sono visti che anche loro nell'high school avevano i bulli volevo fare un raffronto con quelli di siamo fatti così esatto siamo fatti così perché sono guardate sempre la rappresentazione dei bulli comunque è caricaturale non sono tipo che ne so quelli che vedi che ne so i nit che hai paura realistica sono tipo in genere questo e questo col codino parlano male e poi in realtà gli va sempre di merda in power ranger no cioè gli stai sempre insegnato una lezione cioè immaginatevi di essere un bullo negli anni 90 e dice tra i tanti licei non mi sento rappresentato si uno può andare in un liceo qualsiasi e se oh raga io sto flexando il coltellino ti capita giusto la classe dei power ranger ti è andata del merda cioè hai 5 eroi mondiali che ti picchiano ogni giorno cioè hai sprecato 500 euro di coltellino griffato fendi che poi ci riprovano ogni puntata quindi sono bulli che però sono anche recidivi non morano sono coriacei sì sì però sono coriani vado ragazzi come noi in gamba come noi questa cosa si identificativa qui la classica gag del mettere il tizio nella spazzatura che poi è uno che va correndo sono imbattibili irresistibili hanno tanti amici che non mi ecco il bull la sera allora in realtà le parole possiamo anche non sentirle per me io la metterei se posso da capo senza il volume e commentiamo proprio le immagini perché mi interessava proprio fare questo io ho una commento a caldo su questa sigla molto voglio dire che allora da piccolo ero molto legato a questa sigla è molto carina devo dire ora uno può dire uno può dire esatto uno può dire questa sigla come sigla italiana non ha niente che non va con lo stile delle sigle che ci piacciono tanto che abbiamo già portato voglio dire che però con Power Ranger è un caso particolare cioè è il caso nel senso che molto detto in sintesi Mighty Morphin Power Ranger sigla americana era una bomba era proprio teen era hard rock chitarra elettrica e non ti sentiva un bambino quando ti arrivava dicevi io avevi sei anni io avevo delle cose dei ventenni cioè tipo così e tra l'altro bravo bravo è stata se qualcuno se qualcuno si ricorda tanto se la sentiamo sicuro ci bandano poi su youtube come al solito ogni volta con le settimane perché sarà piena di copyright però voglio dire che chi si ricorda la sigla americana che ci pensiamo se farvelo sentire o no c'è una cover hanno fatto varie cover diciamo metal non per forza hanno fatto delle cover metal di quella sigla soprattutto la più celebre è quella dei Megadeth perché la sigla si presentava con uno stile molto aggressive che infatti è stato ripreso da varie band deve essere power non è power metal anche i dragon forse che sono un complesso power metal quindi comunque voglio dire che in linea di massima non è brutta questa sigla però ti fa capire che l'Italia anni 93 tipo ok cartoni per bambini le serie per bambini america una cosa che manca e qui si sente già lo spirito dei tempi e del perché invece in america è ben diversa è quella cosa che dicevamo quando parlavamo delle sigle dei cartoni animati di quella cosa più tipica di Giorgio Vanni per esempio che c'è un po' ovunque però Giorgio Vanni è totalmente presa in considerazione perché sono le sigle d'inizio 2000 che sono gli incisi cioè quelle sigle dentro la sigla go go power rangers qui non c'è niente di memetico questa è una sigla perché manca proprio quella brandizzazione sì ma anche la sigla le cose il montaggio divertente comunque andiamo facciamo la reaction con questa tecnica alla puna che commenti in itinere le cose le vediamo allora intanto una cosa che volevo far notare rispetto anche alle logiche per esempio quando parlavamo un altro super sentai che possiamo tirar fuori che vi dicevo un po' di tempo fa è Capitan Planet che loro in realtà chiamano un quinto ma la logica è simile nel senso ci sono tre ragazzi americani cioè due ragazzi una ragazza sono tutti americani però diciamo di fattezza uno è afroamericano uno di origini asiatiche e c'è una logica di integrazione per esempio in Giappone erano tutti giapponesi quindi qua sono tutti americani ma ti fanno vedere la multiculturalità di della squadra americana quindi non è la ragazza asiatica nella versione americana è in realtà una sorta di rappresentante del mondo cioè può vorreggere rappresentare l'umanità rappresentano nel senso questa logica un po' da America melting pot nel senso che alcuni che sono di origine appunto europea uno di origine asiatica l'altro di origine africana ovviamente tutti americani cioè l'America rappresenta quest'unione dello spirito del melting pot del mondo dove tutti le etnie si sono ritrovate negli Stati Uniti questa speranza americana possiamo anche notare i colori che sono già presenti lui che ha la felpa rossa lei che ha la camicia gialla lei gialla sicuro no anche volevo dire il fatto che anche se abbiamo visto solamente quella del 75 che mentre lì sai che c'è una specie di serie su supereroi sci-fi qua tipo perché ha avuto successo questo format del povera in generazione americana vai hai una sorta di commedia high school lì cioè hai un ibrido che poi alla fine i combattimenti le cose fantasy le hanno rubate dei giapponesi ma lasciamo perdere cioè tu inizia ti sembra una serie fantasy c'è un classico liceo andavano ma questa è la cosa cioè vanno sull'identificativo non sulla mi fai sognare con le cose fantasy questo contesto questo contesto liceale molto allegro molto humor in gamba come noi ti dà anche questa idea di farti identificare tra l'altro io trovo interessante vedere dopo per esempio sui colori queste scelte che io trovo per esempio molto azzardate è anche difficile parlarne su Twitch in maniera più delicata però di come la persona abbiano scelto i colori dei Power Render di come ci sono sì ci sono delle critiche per esempio oggi non so se siano più così penso che siano cambiati però per dire al di là del rosso e del blu ovviamente l'afroamericano che si ritrova la tuta nera la ragazza asiatica che si ritrova la tuta gialla e la ragazza la ragazza che non è caratterizzata dalla questione etnica ma è caratterizzata dalla questione di genere si ritrova la tuta rosa cioè questa è una cosa che all'epoca è molto diciamo vincolante che già nel Giappone per esempio inizialmente non c'era il verde rimarrà quello in più comunque continuiamo ad andare avanti perché poi parlerò di questa cosa dei colori gli archetipi dei colori che mi sembrano una figata quindi loro stanno là che ballano vediamo la presentazione dei PG eccoli qua con la classica banda tipo Ryu molto Street Fighter molto Rambo che fa fico all'epoca che c'hai la fascia il rapporto forse ci tornerai poi tu perché sei però il rapporto questo quasi spezzerà la mano se da un cazzotto con questa mano così il rapporto rosso-blu interessante nel senso che mi pare che in Power Ranger Mighty Morphin il blu era tipo un pochino sfigato il blu era il nerd però qua si vede che il blu che in realtà è lo sfigato sta collaborando con quello là Chad tutto figo rosso e gli insegna qualcosa cioè sono perché lui rappresenta il donatello quasi sono amici però sono estremamente differenti perché questo fermo immagine si capisce da cosa semplicemente da come sono presentati come lui sta spiegando a lui cosa fare cioè in realtà non si capisce ragazzi non voglio esagerare che noi sappiamo come andava la serie guarda per esempio lui come guarda lui sta nella divisa e lui invece già è ribelle cioè quello figo coatto lui allora cioè che figo è questo robot cioè questo personaggio aiutante con questa cosa a 360 gradi con questi guantoni da cucina con il simbolo dei Power Rangers stilizzato e con la base operativa cioè mi piace un botto il personaggio che è quello con cui tutti si affezionano ma di cui soltanto i Power Rangers possono venire a conoscenza certo nel senso nessun altro può sapere del personaggio buono che però è un'intelligenza artificiale è un robottino era un robot che faceva diciamo da inserviente dell'astronave come base operativa itinerante dei Power Rangers che classico aiutante e ha questa testa che sembra un charleston di una batteria sembra cioè lei in realtà voi qua vedete questa forma però qui si illuminava la sua faccia poi si vedrà no non si vede queste animazioni erano molto presenti flussi di finta elettricità ecco qui vediamo l'elettricità con l'essenza dei colori l'essenza dei colori che di fatti vengono rimarcate anche nella sigla nel cantato per cui cioè già qua si vede la questione dei colori non so se andiamo avanti perché così poi non ti fermo più vai vai no 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 è proprio perché da un lato voglio dire questa cosa dei colori però prima vediamo come viaggiano nello spazio queste cinque macchie dei colori macchie dei colori ecco qua vediamo per esempio loro due che si impanicano che arriva il terzo i bulli guarda questi visi sparsi che cosa saranno che puntata sarà là c'è un murale secondo un joker che piange questo sembra tom quello del di art attack no quello del treno quello con il viso davanti vabbè che particolare volevo far notare una cosa intanto queste scene vedi blu cioè nel senso ci hanno sempre dei richiami arrivano con dei colori ecco qui le vediamo anche l'archetipo scolastico cioè i ragazzi alla mano quello nerd cioè questa cosa del gruppo per esempio della squadra ritornerà in una sorta di inclusività non solo dal punto di vista etnico ma anche dal punto di vista di luogo scolastico il secchione la ragazza pompon diciamo la cheerleader il fico che fa le cose invece quello un po' più street e quello nerd cioè prendere anche degli archetipi in modo tale che ci sia anche da questo punto di vista un'inclusività perché come dicevamo prima Mighty Morphin Power Ranger unisce quelle componenti sci-fi della serie originale alle serie high school le serie tv comiche inventate nei licei quindi in realtà tutti questi archetipi del liceo le cheerleader il quarterback il nerd sono in qualche modo abbastanza riscontrabili negli anni 90 anche in serie totalmente comiche americane non sci-fi certo è un'unione e questa cosa secondo me già da una cosa inclusiva che ovviamente aumenta la probabilità di identificare perché più personaggi diversi hai se sono tre a fare le cheerleader ovviamente sicuramente lo vendi meglio dell'esercito della croce nera che si ispira alle cose più terribili del 900 allora loro arrivano allora vedi sempre queste cose loro sono abili no? vabbè arrivano cadendo dal cielo non si sa a quale altezza le cinture questa amorfizzazione tra l'altro guardate i caschi cinture molto da wrestling ma guarda che bello il casco con la bocca del t-rex con questi occhietti cioè la bocca del t-rex è un continuo questo anche la bocca comunque tipo maschera di ferro cioè non è che c'è la bocca umana è come se la tuta fosse sopra una sorta di base che è figa come cosa effettivamente perché dovrebbe mostrare una bocca che effettivamente non c'è potrebbe essere tutto rosso invece mi sono ricordato da questa cosa un po' robocop mi sono ricordato cosa volevo leggere dalla wikipedia power ranger poi lo postiamo ci ritorniamo è spiegato perché hanno dei super poteri cioè la spiegazione tecnica è una spiegazione hacker ah no io volevo leggere poi la cosa morale le loro obblighi morali sono gli obblighi morali ah ritorniamoci finiamo questa e ritorniamoci e poi e poi farò la cosa dei colori qui vediamo per esempio il t-rex il mammuto che bello il mammuto che sputa il fuoco guarda per esempio io volevo far notare l'associazione anche tra i vari dinosauri e le persone il mammut e il zanne come si chiama allora il giallo e la tigre il giallo e la tigre da zanne lunghe Diego di come si chiama il t-rex è il power ranger nero il triceratopo è il power ranger blu blu e l'opterodattilo è il power ranger rosa anche qua già si vede secondo me la questione di comunque c'è una piramide fino a prova contraria cioè quello rosso è la punta è il t-rex e gli altri tendenzialmente sono tutti erbivori tranne uno che non è erbivoro però fino a prova contraria è un mammifero 32 sono mammiferi si può dire che la squadra funziona così bene egregiamente perché in qualche modo power ranger ti suggerisce a livello implicito che le cose funzionano bene quando hai installato una gerarchia cioè sono amici eccetera però se il mammut andasse a organizzare lui al posto del rosso in realtà sarebbe una merda tant'è che guarda c'è una gerarchia in power ranger che ne pensate qua c'è la gerarchia in questo momento qua in megazord perché se noi andiamo a vedere anche qui la metafisica quando parlavamo quando dicevamo quando dicevamo per esempio la volta scorsa su full metal alchemist due volte fa in realtà dell'anima di al e perché parla o dove è se è nella testa e questa loca qua non è un caso che nel nostro diciamo nell'occidente noi mettiamo la coscienza l'intelligenza tutto nella testa perché il cervello il corpo sticazzi è tutto un unico ma l'importante è la testa megazord la testa è il t-rex gli altri sono diciamo gli arti che compongono il resto però di fatti si vede anche dalla disposizione noi abbiamo due braccia due carambella testa esatto ci sono guardate anche all'interno per esempio della base operativa come arrivano sono lui al centro e questi due di lato che sono le ragazze e loro due invece ai lati quindi ovviamente la centralità i sedili delle ragazze siano messi in laterale è anche un altro elemento dettaglio mi dispiace no 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 però mi dispiace non per te mi dispiace per le donne scusate se abbiamo distrutto per millenni questa è la cosa minore tra tutte le cose che abbiamo fatto però comunque questo causa anche le altre cose quindi lui sta là si alza megazord guarda che figo come ognuno spara un raggio dalla propria parte ma spara ovviamente un raggio ognuno con un corde questi raggi facevano morire quando eri negli 90 sembravano veramente una cosa futuristica che dici ma quanto è realistico mio Dio cioè da bambino ma poi questi flussi di energia erano veramente una cosa che piacevano un botto ai bambini negli 90 perché in realtà per esempio sembra che non c'entri nulla però anche i giocattoli risentivano tipo anche le pubblicità dei giocattoli c'erano queste animazioni che richiamavano questa cosa dell'energia il fascio di energia addirittura quando dovevi il super liquidator più che sparare acqua ti immaginavi di sparare qualcosa al plasma fotonico mega galattico cioè nel senso nei 90 era ricorrente questo fatto che c'erano delle armi e delle cose che sparavano dei flussi laser dei flussi elettrici ma di fatti c'è la logica energetica che mi piaceva quella logica energetica che forse sta in gogo Power Rangers vabbè lo vediamo 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 ma lasciala lasciala se vuoi lascio fluire così vediamo vabbè qui vediamo i cattivi qua vabbè logo la posa la posa dei Power Rangers è una cosa molto importante guarda questa scena questa è una cosa fighissima allora si avvicinano i due e lei che è vestita di rosa guarda questo soggetto meraviglioso bellissimo deve fare questa cosa super atletica per evitare due tizi e gli stanno in incontro non basta il passo indietro c'è una continua acrobaticità che riprende un po' quella cosa americana che stavamo dicendo del la spettacolarizzazione cioè loro nella vita di tutti i giorni lo fanno continuamente pure prima c'è Bill si chiamava tra l'altro il triceratomo e Zucchia che memoria Zucchia era quello nero mi sa che quello rosso fosse Jack può essere non mi ricordo quella rosa non mi ricordo beh mi sembra un ottimo ragazzi mi ricordo sicuramente il blu e il nero dei Power Rangers qualcuno di voi si ricordava i nomi dei Power Rangers perché voglio dire un canale così come si può non mettere follow cioè nel senso se uno si ricorda i nomi dei Power Rangers cazzo cioè questo è un merito nella vita c'è gente che ha un lavoro all'inizio pure ha tipo una specie di mossa vabbè però era importante questa cosa delle pose perché magari vi ricorderete che ne so magari non avete la vostra età però vi avrete visto su Dragon Ball Z la squadra Genius nella saga di Namek in realtà è una cosa che nasce da molto lontano anni 80 90 c'erano queste sia nelle serie tv che negli anime ma tipo anche se l'Hormone eccetera le movenze dovevano essere facilmente riconoscibili e dovevano essere sempre riprodotte le stesse cioè non soltanto l'animazione del Morphin della trasmutazione da umano a tu da Power Ranger c'erano sempre in qualche modo anche dei movimenti che ti facevano associare un personaggio al suo modo di combattere anche per esempio Okuto no Ken lo stile di Okuto con lo stile di Nanto mi pare quindi anche il Power Ranger era così cioè avevano i loro stili c'era tipo che ne so la classica combattimento c'era quello che aveva la spada però anche nelle arti marziali addirittura c'erano delle peculiarie ad esempio che si vedono anche nei videogiochi di picchiaduro anche lì i personaggi femminili hanno un modo di combattere tipico loro hanno per esempio che non so delle armi in un ciapole se le ninja sono più femminili lo spadone infuocato è più del tir vabbè è lungo però le movenze sì quindi guarda questa cosa bellissima trash da morire sì però ho capito questa tipo siamo inventivi non è che combattono che mi hanno ce ne devono essere sempre spettacolaristici anche qua cioè questo che tiene questo che tiene questo una specie di elicottero umano che per distruggere le persone poi come sempre ricalcano i loro vestiti che devono essere sempre ritornare questi qua che combattono vedi lei fa ginnastica vabbè la classica scena dei bulli questo mi piaceva che l'abbiamo anche commentato cioè se vuoi poi c'è la scena ci abbiamo due minuti loro dentro l'astronave quella che avevamo già visionato molto tempo fa allora quella là mi interessa non so se vuoi saltarla puoi commentarla dopo in realtà la possiamo commentare dopo perché qui in realtà ci sta solo questo stavo andando avanti ecco che si vedono guarda qua questo mi interessava ti ricordi che c'erano anche che ti rivendevano i assolutamente il giocattolo i distintivi i distintivi diciamo eccolo qui si vede ovviamente il colore di ognuno che ognuno esterneva il distintivo per potersi trasformare Power Rangers è la cosa più anni 90 che abbiamo messo fino ad ora mamma mia con sta luce dietro vedi ovviamente nello stesso ordine T-Rex Mammut T-Riceratopo però non ti mostrano non si sa per quale motivo le due ragazze volevo vedere mamma mia e niente non riesco a far vedere voglio vedere informare su quelle mettila a rallenty per stoppare meglio eccoli i gettoni i gettoni mi piacevano quindi si vede anche qua questa se vuoi in realtà è una buona occasione per sparre la tua teoria guarda già qua come si vede questo 3 più 2 ok il 5 anche in musica per dire nella musica occidentale quantomeno in genere la si può concepire come 1 più 4 ma in genere diciamo in sun dopo che noi dividiamo o in ternari o in binari in genere è 2 più 3 o 3 più 2 anche cioè di come nell'occidente dico generalmente non è sempre così vediamo anche la musica è un numero equilibrato è un 3 più 2 2 più 3 perché poi alla fine sono gli archetipi base qui anche 3 figure maschili 2 figure femminili sono messe anche in maniera simmetrica rispetto ai gettoni cioè nel senso comunque la divisione c'è 3 2 3 4 4 5 Grazie a tutti.